Ma introduciamo i nostri ospiti, loro sono Alessia e Matteo e ci parleranno della ginnastica artistica a Brusa Porto che in realtà mi hanno già corretto prima di iniziare dicendomi che non è più ginnastica artistica in tutto ciao, benvenuti, dicimi perché non è più ginnastica artistica Ciao a tutti, ciao No, allora, forse siamo un po' parentesi prima Noi facciamo, noi parlavamo di quello che pratichiamo a Brusa Ok, non ha avuto niente praticamente E non lo pratichiamo a Brusa, però vado per fare un'altra disciplina che è acopatica Ah, ecco Non ho capito proprio niente, io Benny ma fa bene lo stesso Bravissima Allora, prima di essere insegnanti, diciamo così Se siete anche voi degli allievi e se sì, da quanto tempo? Sì, allora, io sono stato allievo per 10 anni circa Ha sempre a Brusa Porto, ho sempre frequentato la palestra di Brusa Porto Ginnastica Artistica, ovvero i salti, cioè quello che si vede in televisione diciamo al corpo libero Ok, vai Benny Beh, voi all'epoca, quando avevate ancora dei pischelli, diciamo, avevate una specialità? Io sì, principalmente, cioè durante le gare facevamo tutti gli attrezzi Però io, diciamo, sono un po' specializzato nell'aeroneo campo libero Io invece sinceramente non ho mai avuto una specialità Però l'unica volta, diciamo, che ho vinto qualcosa è stata ho vinto una medaglia di bronzo, diciamo Alla trave e quindi posso dire che sia quella la mia specialità Ciao Beh, è stato un bel riconoscimento, devo dire, invece Sicuramente sei stata soddisfatta, anche perché penso che la ginnastica, come tutti, l'acrobatica Come tutti gli sport, sia abbastanza impegnativo E richieda molti sacrifici a livello sia di tempo che di fatica a livello fisico Sì, al tempo, quando mi allenavo, facevamo sei in sei ore a settimana, non so Adesso sono passato a farne una settimana Diciamo che sei un uomo impegnato adesso, Matteo Proseguiamo con la nostra intervista Allora, domanda forse un po' difficile, speriamo di no La ginnastica, da quando avete iniziato voi da piccoli ad adesso È cambiata negli insegnamenti, nel modo di, non so, di un atleta Nell'approcciarsi a un terminato salto, piuttosto che, non lo so, esercizio? Beh, allora, la tecnica dell'atleta sta tutto nell'insegnamento dell'insegnante Cioè, dal maestro E quindi, beh, sicuramente nella palestra di Clusopopo sono passati tanti insegnanti Tanti istruttori, con diverse tecniche, con un diverso approccio alla ginnastica E quindi sicuramente questo è diverso, è completamente soggettivo Poi, c'è da dire che ultimamente, se prima c'era una squadra che faceva sei ore in palestra Ora non c'è più una squadra, c'è una squadra che ne fa quattro Però comunque anche l'impegno è cambiato E poi anche le gare, le competizioni che si svolgono Non sono più da federazione, ma comunque anche in questo caso è cambiato Quindi richiedono elementi più semplici e nient'altro L'ultima domanda, così poi li lasciamo andare Buona domanda, beh Beh, visto che comunque parliamo del nostro paese Ci potete dire che cosa offre la ginnastica di Busaporto? Allora, la ginnastica di Busaporto offre tre corsi Abbiamo il corso base, il corso intermedio e il corso avanzato Nel corso base ci sono bambine, diciamo, dell'asilo E prima, seconda e terza elementare L'anno scorso abbiamo avuto anche una bambina di quattro anni Abbiamo quattro, cinque anni E ci sono arrivate anche nuove domande di iscrizione di bambini di sei, sette anni Quindi abbastanza piccoli Nel corso base diciamo che insegniamo appunto gli esercizi base Nella ginnastica artistica E diamo molto importanza anche alla mobilità, alle spaccate Perché sono fondamentali Poi nel gruppo intermedio abbiamo, diciamo, ragazzine più grandi Quinte elementare, quarte, quinte elementare principalmente Dove miglioriamo gli esercizi imparati nel corso base E impariamo, diciamo, quegli esercizi che poi servono, diciamo, per andare nel gruppo avanzato Il gruppo avanzato ci sono ragazze un po' più grandi Ed è seguito da Matteo e da un'altra delattrice Mentre io seguo il gruppo base E poi intermedio Beh, direi che sono stati bravissimi Hanno risposto tutte le nostre domande Provendoci anche un sacco di indicazioni E se qualcuno volesse iscriversi alla ginnastica cosa deve fare? Deve recarsi semplicemente in palestra Oppure abbiamo la pagina Facebook E se sono lì poi tutti i contatti Quindi la felicità è una cosa semplicemente Noi li ringraziamo, grazie a Leste Grazie a Matteo per essere venuti oggi E prima... Buona serata, naturalmente Esatto, buona serata Buonasera, visto che è orario